Stai pensando di intraprendere una carriera nell'esercito italiano? Il concorso come volontario inferma iniziale 2025 con ben 6.500 posti a disposizione è l'opportunità che stavi aspettando. Ma cosa bisogna sapere per non lasciarselo sfuggire? Scopriamoli insieme. Ciao, sono Elena, esperta di concorsi e consulente di concorsi militari Academy. Oggi sono qui per guidarvi passo dopo passo nel concorso WFI Esercito 2025 e per condividere con voi le informazioni cruciali per poter presentare correttamente la domanda. Iniziamo quindi con la suddivisione dei posti e le dati di presentazione delle varie domande. Il primo blocco avrà a disposizione 2.000 posti. La domanda di partecipazione potrà essere presentata tra il 31 ottobre e il 29 novembre 2024, per i candidati nati tra il 29 novembre del 2000 e il 29 novembre del 2006. Il secondo blocco avrà invece a disposizione 2.200 posti. Le domande potranno essere presentate tra il 14 gennaio e il 12 febbraio del 2025 e per partecipare sarà necessario essere nati tra il 12 febbraio del 2001 e il 12 febbraio del 2007. Infine il terzo blocco avrà a disposizione 2.300 posti. La domanda potrà essere presentata tra il 1 e il 30 di luglio 2025 e per partecipare sarà necessario essere nati tra il 30 luglio del 2001 e il 30 luglio del 2007. Ogni blocco include una distribuzione dei posti tra le varie specializzazioni, come ordinario uno specializzato oppure come figure tecniche, come elettricista, idraulico, meccanico, eccetera. Il secondo blocco mette anche a disposizione 450 posti destinati ai candidati che vogliono intraprendere il percorso nelle forze speciali. Un'opportunità esclusiva per chi vuole affrontare le sfide più ostiche. Vediamo allora quelli che sono i requisiti principali per poter partecipare. Bisogna infatti avere tra i 18 anni compiuti e i 24 anni non compiuti per poter partecipare a questo concorso. Bisogna avere il diploma di scuola secondaria di primo grado e la cittadinanza italiana. E non bisogna avere nessun tipo di precedente penali. Il 10% dei posti è poi riservato a categorie specifiche, come ad esempio i diplomati nelle scuole militari e i figli dei militari deceduti in servizio. Infine è possibile presentare domande a più blocchi, sempre se si rispettano quelle che sono le cadenze. Ricordati che per inviare la domanda sarà necessario accedere al sito del Ministero della Difesa. Troverai poi tutte le indicazioni per presentare domande all'interno del bando. Ricordati che questo sarà un concorso veramente complesso perché è molto ambito e quindi è necessario prepararsi al massimo. Come puoi essere sicuro di vincere il concorso? Affidati a concorsi militari academy. Siamo la scuola numero uno in Italia per testimonianze e risultati. Se anche tu vuoi affidarti a noi, clicca qui sotto il link e riceverai tutte le informazioni necessarie. Non mi resta quindi che augurarti un grande in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima news.